Porco Dio, non so, dopo aver bevuto un po' di bacardi così in Malibu, alle sera a mezzanotte e mezza più o meno così, così non si sa, così molto fiamma. Oh, dov'è che ci vengono a prendere? Qualche cannetta qua e là, ci stanno intanto, oh ma dove cazzo siamo finiti qua? Ah, forse andiamo tutti qua. Beh, ragazzi vi voglio dire che le Winston fa veramente cagare. Porco Dio, ma come si fa a fare un tabacco così? È tutto amaro, io boia, le lacchi rosse, quelle morbide, io boia, porca la madonna, insomma, dai. Oh ma, spettaccio, spettaccio. Spettaccio ma. a